Finalmente sono riuscito a riprendere una coppia di colmolani. Che bellezza! Sono una coppia. Ora forse si sta scrollando un pochettino le ali. Finalmente il mare è libero completamente non c'è più quella confusione diciamo, ma io vorrei dirgli peggio, di gente che tra l'altro vengono, portano da mangiare con cassette addirittura, lasciando ogni sorta di spazzatura che presumono loro essere dovere dell'amministrazione comunale e poi riportarla a casa. La mia città è stata una coppia. La mia città è stata un'altra 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 coppia. Si, intravede lo scoglio della corona. La mia città è stata un'altra coppia. Ora per fare la patata, parla ce chiudo è davvero per absolutely Bye Comoi. Si Richard, sta cercando un candi facendo da l'altra coppia. Un piccolo sarugino passando, interrompo e riprendo dall'altra parte.